Antonio Di Gregorio, bentornato. Sei tornato in campo dopo diverso tempo, hai dato una grossa mano lì in avanti, anche se non hai trovato molto spazio perché la difesa del Camoverino stringeva tanto su di te. Ma Pino, grazie per la cosa. È stato un periodo difficile per me, ho avuto questa infortuna a novembre. Oggi finalmente sono ritornato a disposizione del mister a tempo definitivo dall'inizio, dopo tre mesi esatti. Per me è stato veramente... sono molto contento per questo, volevo dare una mano ai ragazzi e così è stato. Qua sapevamo che era difficile, le loro difese erano ben strutturate, il campo comunque era dei migliori e quindi è stata dura per me. Però l'importante è aver portato i tre punti a casa. Avete sofferto nel primo tempo, siete stati bravi nel secondo a trovare quel gol e poi l'avete gestito al migliore dei modi. Ma sì, secondo me è stata una partita perfetta, siamo stati veramente molto bravi, compatti, abbiamo subito veramente poco. E' stato difficile, però ripeto, questo bastava, anche se ho concluso poco io, però abbiamo vinto, va bene lo stesso. Lì davanti con Esposito e con a destra il fratello di Thomas, Ferrante. Ferrante, Ferrante avete fatto... spesso vi siete scambiati e avete fatto una grande partita. Sì, loro sono due hunter, sono veramente molto giovani, sono molto bravi, io gli do la mia esperienza, loro danno la loro salute. Senti, domenica, sabato prossimo in casa per cercare di trovare quella continuità nei risultati. Sì, sicuramente, in casa nostra cerchiamo sempre di prendere dei punti, anche perché lì chiunque viene è difficile per gli avversari. Ci proviamo, credo, spero che ci riusciremo.